Amica o nemica? Vengo in pace, amici. Mi è stato detto che sapete dove i britanni portano le loro provviste. Ci chiami amici, danese? Preferirei di sì. Dopo anni di sangue e guerra, di assalti e razzie, perdonaci se non ci fidiamo della tua gente. Sì, immagino che abbiate conosciuto spade, fuoco e morte, e che abbiate perso i vostri cari. Sì, è così. Conosco quel dolore. Mi ha condotto in Inghilterra per ricominciare, ma Rodri e i britanni lo impediscono tanto a me quanto a voi. Ti capisco. Forse sono stato impulsivo. I britanni muovono le merci attraverso la cava di Doston. Vedi quella torre a sud? Sono i resti di Hillgate. Più avanti troverai la cava. Grazie. Aspetta un momento. Se ti servisse aiuto... Potrebbe. Bravi uomini merciani lavorano alla cava. Combatterono per Tein Merton. Se dovessi ritrovarti in uno scontro, pronuncia e loda il suo nome. Quegli uomini accorreranno. Dio benedica Tein Merton. Ho capito. Questa è la cava. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.